Con questo esercizio vi illustrerò come poter realizzare una semplice nuvola utilizzando un sistema basilare di Particles. Esistono molti sistemi come per esempio l'utilizzo di piani e mappe di opacità, l'utilizzo di effetti atmosferici, plugin come Afterburn o FumoFX o PhoenixFD. Ma preferisco illustrarvi un sistema più basilare poiché sarà di aiuto comprendere alcuni concetti fondamentali per le prossime lezioni. Come sempre per un'ottima gestione l'ideale è organizzare il file con una buona struttura ordinata per livelli anche se questo non è sempre possibile. Apriamo i layers e creiamo i seguenti. Geometry in quale avremo le nostre geometrie. Particles per i sistemi particellari. Camera, view per le camere. Light, nel caso ne avessimo bisogno, per le luci. Altro aspetto fondamentale è l'unità di misura ed il motore di resa, quindi Customize Unisetup, System Unisetup. Come unità di misura userò i centimetri sia di visualizzazione che di setup. Essa è molto importante perché ci consente di utilizzare dei valori molto vicini alla realtà e al tempo stesso ci permette di capire con quale scala stiamo lavorando. Per alcuni esempi utilizzerò la versione generica in fase di visualizzazione. Come motore di resa, Assign Renderer, possiamo scegliere tranquillamente Scanline se non è già impostato. Per questi esercizi utilizzerò sempre ScanlineRenderer senza addentrarmi con altri NGI più complessi. Questo perché voglio ricreare una classica pipeline di produzione dove molto spesso gli effetti delle particles vengono renderizzati con motori di resa basilari per poi compositarli in post-produzione. Questa procedura viene fatta per una questione di tempistiche. A volte non c'è il tempo per poter renderizzare nuovamente la scena e quindi si cerca di ottimizzare al meglio.